Buongiorno, come va? Come si fa con Alfredo Lomuzio? Vorrei capire, dal centro-destra, dalla Di Bello a essere di centro-sinistra. Io me lo domando. Io ti rispondo. Io non mi sono mai candidato in vita mia. Eri aria Di Bello? Io ero amico della Di Bello. Presidente di Fratara? Sì, amico della Di Bello, amico di Tucci, amico di tutti. E ora? Di Mineo. E ora? E rischierato col centro-destra, dobbiamo essere sinceri. Se dobbiamo negare l'evidenza, la negheriamo. Io non nego niente, assolutamente. Eri con la Di Bello? Ero molto amico della Di Bello. Hai fatto le campagne elettorali per Forza Italia? L'ho fatto per Vendola. Per tutti li hai fatti? Per tutti. Facevo l'imprenditore. Per tutti. Per tutti. Facevo l'imprenditore. Come si dice atta, nascendo ai panni e chiamo a papà. Assolutamente. No, è una domanda. E io non parlo così. Così si dice atta. Io ho facevo la campagna elettorali e l'ho fatta per tutti. Per chi mi ha chiesto una mano l'ho sempre dato. E quindi ora? Ora? Il centro-destra. Magari tra cinque anni col centro-destra. Tra cinque anni vedremo. Tra cinque anni vedremo. Speriamo che Cristo ci dia la forza. Ma certamente. Di esistere tra cinque anni. Beh, insomma, dai, comunque, dal centro-destra al centro-sinistra. Perché siamo dalla parte dei cittadini. Certo. Dal centro-destra al centro-sinistra. E il giro continua. Buona campagna elettorale. Grazie tante. Ciao. 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 Ciao.